LibreOffice è usato in tutto il mondo da milioni di persone. È sviluppato da una comunità internazionale composta da centinaia di persone che lavorano al codice sorgente, alla progettazione dell'interfaccia grafica, alla documentazione e dalle traduzioni. Molti sviluppatori LibreOffice lavorano a tempo pieno al software. Molti altri lavorano nel tempo libero, fornendo contributi perché amano il software libero e open source. Anche se LibreOffice è un grande progetto, è amichevole e aperto con tutti. Abbiamo molti canali di comunicazione, incluse le mailing list, i canali IRC e le chiamate di gruppo con frequenza regolare. E cerchiamo di fare in modo che ogni nuovo collaboratore si senta il benvenuto. Mi chiamo Ashod Nakashian e sono un contributore di LibreOffice. Direi che la comunità è molto accogliente, molto utile. Ho avuto subito l'assistenza necessaria. Mi hanno reso operativo e mi hanno aiutato affinché la correzione da me fatta fosse validata e pubblicata nel minor tempo possibile. Quindi l'esperienza è stata molto forte. Ho voluto subito affrontare un nuovo problema. E l'ho fatto! Per far familiarizzare con LibreOffice i nuovi sviluppatori, abbiamo selezionato una serie di problemi da risolvere chiamati Easy Hacks. Lavoriamo con gli studenti della Google Summer of Code per far loro conoscere il progetto. Sono uno studente di Google Summer of Code dall'India e sono stato coinvolto fin dall'inizio di questo anno. È stata un'esperienza fantastica perché all'interno dell'organizzazione ci sono tanti ragazzi molto bravi che ci fanno da guida e ci aiutano a risolvere i bug e gli Easy Hacks. È tutto progettato per portare nuove persone nell'organizzazione. E questa è una grande cosa! LibreOffice è sostenuto da The Document Foundation, un ente senza scopo di lucro. Si avvale di un piccolo gruppo che opera sull'infrastruttura, la documentazione, il controllo qualità e il marketing e si basa su leggi che governano il progetto, garantendo che LibreOffice appartenga sempre alla comunità. Ogni anno sviluppatori e sostenitori LibreOffice si riuniscono per una conferenza in cui condividere idee, mostrare le nuove caratteristiche e parlare del futuro del software. Se sei un utente di LibreOffice e desideri essere coinvolto nel progetto, sei invitato a partecipare. Sono Iona, vengo dall'Albania. Sono una studentessa dell'Università di Tirana, studio informatica gestionale. Essendo un semplice utente di LibreOffice, ho pensato, perché non essere anche parte della comunità e dare il mio contributo? Ecco, questo è il motivo per cui sto contribuendo a LibreOffice e sono davvero contenta di aver avuto l'opportunità di essere qui alla conferenza in modo da conoscere più persone che ne fanno parte e che mi possono aiutare a essere maggiormente coinvolta nella comunità. Quindi mettiti in gioco! Vai su tdf.io barra joinus e scegli quale gruppo o progetto vuoi aiutare. Apprezziamo davvero i vostri contributi e soprattutto speriamo che vi divertiate!